Il commento sulle possibilità di far finire la guerra, il commento di Lucio Caracciolo secondo me molto interessante, che merita di essere letto approfonditamente, anche perché pone tre scenari, la grande domanda è cosa succede adesso, dopo un anno, a che punto siamo? Dice Lucio Caracciolo, ci sono tre possibili vie, la prima è quella di ridurre il sostegno militare a Kiev fino a convincere Zelensky dell'impossibilità di vincere, dunque della necessità di compromettersi con Mosca, la seconda possibilità è entrare in guerra, noi direttamente, per salvare l'Ucraina e distruggere la Russia a rischio di distruggere anche se stessi e invece la terza sarebbe negoziare con i russi un cessato del fuoco alle spalle degli ucraini per imporlo agli aggrediti e sono, dice Caracciolo, scenari molto improbabili, il primo e il terzo, semplicemente assurdi, cioè il secondo, quindi entrare in guerra a rischio di far scoppiare la terza guerra mondiale, quindi a questo punto non si va da nessuna parte, l'idea è di far andare avanti le cose in questa maniera e vedere chi riesce a avere la meglio con una situazione di carneficina terrificante e un proseguimento della guerra che distruggerà sicuramente farà danni alla Russia, ma potrebbe anche annichilire l'Ucraina come in parte sta già succedendo, dice Caracciolo, nella Casa Bianca ha fretta di interrompere un duello nel quale la Russia, unico se non spontaneo socio del nemico principale, cioè la Cina, paga ogni giorno un alto prezzo materiale, umano e soprattutto immateriale, cioè dice la Casa Bianca non ha nessuna fretta di finire questa guerra, tanto per adesso se la sta cavando abbastanza bene e la realtà è che noi ci siamo in mezzo, quindi come si dice da tempo la vera vittima qui è l'Europa e oltre, insomma, condividentemente l'Ucraina che sta perdendo uomini, sta perdendo parti del territorio, insomma è una cosa devastante, io credo che noi ci siamo veramente infilati in una specie pensando di giocare a un videogame, ci siamo infilati in una situazione terribile. Nel frattempo abbiamo visto, c'è stato il vertice di Rammstein in Germania, ci sono state polemiche perché il governo tedesco ha espresso qualche dubbio sull'invio di tank, i famosi Leopard, gli ucraini chiedono circa 300 carri armati perché vogliono in primavera con il disgello riconquistare i territori persi, la Nato ha scelto il Leopard appunto, ma Berlino non dava l'ok. Allora oggi il Corriere della Sera ci informa invece che Kiev sta esistendo sui tank e è arrivato il primo sì di Berlino all'invio dei carri armati tedeschi, dice Andreani Castro inviato a Kiev, gli ucraini insistono che i carri armati sono essenziali e ogni giorno senza significa più morti, i tedeschi fanno la loro prima apertura, i Leopard in mano alla Polonia possono andare in Ucraina e Berlino non si metterebbe di traverso, a dirlo è la ministra degli esseri tedesca Annalena Baerbock in un'intervista televisiva, dall'altra parte del fronte invece Mosca torna ad evocare l'escalation nucleare mettendo in chiaro quali ragioni frenino Berlino, se Washington nei paesi della Nato inviano armi per attaccare città pacifiche o tentare di occupare le nostre terre, ha detto il portavoce del Parlamento russo, vice Slav Volodin, la reazione sarà con armi ancora più potenti, sarebbe una catastrofe per l'intero mondo, quindi insomma come diceva Caraccio siamo dentro una gabbia da cui è difficile uscire e contemporaneamente qui però si fanno ulteriori richieste di armi da parte di Kiev, vuol dire alzare il livello dello scontro, vuol dire risolvere militarmente la questione, però il rischio è che si risolva a spese di tutti, nel senso che poi se è una guerra esistenziale tanto per l'Ucraina quanto per la Russia, una potenza nucleare alle strette, potrebbe anche decidere di usare armi nucleari, questo è il motivo per cui normalmente non si faceva la guerra alle potenze nucleari. Vorrei segnalare anche una cosa per me allucinante, letta sempre su Corriere della Sera, dalla stessa pagina, sempre ad opera dell'inviato a Kiev, Andrani Castro, sapete che l'Ucraina prima della guerra aveva un fiorente business legato alla gestazione per altri, un cosiddetto utero in affitto, i bambini in provetta, queste nascite che tra l'altro erano state anche danneggiate prima dal Covid e poi dallo scoppio della guerra, i contratti con le madri surrogate erano in sospeso proprio perché non ci si poteva muovere, c'erano dei bambini bloccati, li avevamo visti alle immagini in questa clinica dove erano venuti al mondo, clinica appunto per la surrogazione, cioè coppie omosessuali o eterosessuali, non c'è grande differenza, si rivolgevano queste numerose cliniche presenti sul territorio ucraino pagando una cifra più bassa rispetto ad altre situazioni, ad esempio quelle che si trovano negli Stati Uniti, si poteva ottenere un bambino in provetta e adesso c'è un'evoluzione, visto che sono fermi questi contratti di surrogazione, c'è una nuova deriva di questa clinica, dice il Corriere della Sera nella clinica dei bimbi in provetta ora conservano il seme degli eroi e parla questa Yaroslava che è la moglie di un combattente che sta al fronte, impegnato al fronte, dice io e mio marito Evgeni, dice Yaroslava, una paziente della clinica per la salute riproduttiva ICSI che sta nella capitale ucraina, non abbiamo problemi di fertilità, per un anno però dall'inizio della guerra, cioè il 24 febbraio non ci siamo praticamente più visti, quindi qual è il punto? Che qui ci sono tante coppie che hanno questo problema, c'è il marito al fronte e la moglie a casa, i due non si vedono, l'uomo è chiamato a combattere, parte, non sa se potrà tornare, in quale condizioni, purtroppo i sistemi di protezione individuale con cui i soldati sono al fronte proteggono le parti vitali, la testa con il casco, il cuore, gli organi principali con le piastre antiproiettili, tuttavia i testicoli e le ovaglie restano fuori, quindi uno non solo può rischiare la morte, ma può anche rischiare di tornare sterile, quindi queste cliniche, in particolare questa clinica si è convertita in qualche maniera, praticamente conserva fondamentalmente il seme di quelli che vanno a combattere per poi eventualmente far fare figli, successivamente le moglie rimaste a casa, dice gli eroi che stanno difendendo l'Ucraina sapevano dal giorno in cui si sono arruolati che avrebbero potuto anche non tornare vivi, ma più il tempo passa e più capiscono che anche sopravvivendo rischiano di trovarsi con ridotte capacità riproduttive e quindi cosa fanno? Congelano le cellule riproduttive, ecco la soluzione spiega questo dottore Alexander Dari che lavora a questa clinica XI di Kiev, dice noi congeliamo le cellule riproduttive, questa è la soluzione che la nostra clinica offre ai soldati come moltissime altre cliniche del paese, sperma o vociti possono venire conservati per anni, quando la coppia decide di avere figli sa di avere questa riserva genetica a disposizione qualunque cosa succeda, io lo trovo sinceramente una cosa abbastanza inquietante, capisco che possa essere per tanti una soluzione, voglio dire si fa anche qui, però quest'idea della riconversione, nuovo business in qualche maniera biologico sulla vita di queste persone è abbastanza inquietante e tra l'altro di questo aspetto quando si celebra la democrazia ucraina, appunto l'Ucraina come unico argine all'avanzata del totalitarismo russo, di questi piccoli particolari sul fatto che questo paese che era forse il più povero d'Europa si fosse sviluppato questo business sulla vita delle persone, soprattutto delle donne, si tende a dimenticare questa parte della surrogazione diventata un business nazionale e adesso ovviamente non potendoci più essere la surrogazione per evidenti motivi, perché gli occidentali non vanno più lì a comprare i figli e adesso c'è questa riconversione, il fenomeno dice di questo del congelamento dello spermo degli ovociti è ormai così diffuso che questa settimana la Rada e il Parlamento di Kiev discuteranno una legge per regolamentare le nascite postume, attenzione, si prende esempio dalle legislazioni israeliane non ci saranno più equivoci e liti legali, persino i nonni potrebbero avere il diritto di usare il seme congelato del figlio ucciso in guerra per avere un nipotino da una madre surrogata, questa cosa mi lascia estremamente perplesso questa idea quasi un po' eugenetica di ricreare la nazione attraverso questi strumenti, poi mi sembra una forma di business un pochino discutibile e questo purtroppo però quello che succede quando si continua a combattere, non c'è una prospettiva per uscire da questa guerra, la situazione è ancora sostanzialmente in stallo, si continuano a chiedere armi e il rischio è che appunto non se ne esca vivi, ma questo è un rischio che potrebbe valere anche per noi, caso mai dovessero i russi scegliere di utilizzare delle armi diciamo così sporche, nel frattempo ci sono altre notizie che riguardano le questioni energetiche, troviamo sulla prima pagina del messaggero, la prima è una notizia positiva, ricordate che nei giorni scorsi abbiamo parlato della questione delle case green, un adattamento che potrebbe costare 1.400 miliardi, adesso arriva un alto a là dalla Banca Centrale Europea in una lettera riservata della BCE alla Commissione Europea, la BCE dice che la direttiva sulle case green va riscritta, ci saranno rischi di squilibri tra paesi se questa norma sulle case green viene approvata e in più ci sono anche le preoccupazioni per l'allocazione dei capitali che preoccupano Christine Lagarde e la Banca Centrale Europea, ovviamente se si muove la Banca Centrale Europea ha un po' più peso dei cittadini singoli che facciano notare l'assurdità di questa norma, i costi mostruosi che avremmo finito per pagare, è un piccolo passo avanti nel senso che si spera che anche dopo questa lettera qualcuno si ravvede e dica vabbè lasciamo stare questa scemenza che prevederebbe entro il 2030 di mettere tutte le case in classe energetica prima E e poi D, cosa che comporterebbe un dispendio di soldi enormi e ovviamente penalizzerebbe le fasce più deboli della popolazione, nel frattempo quanto, perché poi le due cose sono legate, la casa green ti permette anche di consumare di meno, almeno in teoria e il messaggero prima pagina ci dice a che punto siamo invece con le forniture di gas, avendo tagliato il rapporto con la Russia, adesso noi cerchiamo gas da altre parti e quindi gas all'Algeria, ecco il piano, missione del Premier, forniture fino a 70 miliardi di metri cubi per diventare il lab europeo dell'energia, questo è il piano Mattei di cui parla tanto il governo ancora da prima delle elezioni e Tajani dice che il gasificatore di Piombino dovrà entrare in funzione in primavera, qui il piano ovviamente è quello di diversificare le fonti, di andare dagli algerini che insomma hanno varie criticità, bisogna stare attenti perché ci sono varie criticità sulle forniture, loro hanno dei rapporti, insomma parte con gli spagnoli, anche con in realtà con cinesi e russi, quindi si va in un territorio molto delicato, l'idea è quella di avere ancora più forniture dall'Algeria e diventare una sorta di hub energetico dell'Unione Europea, cioè fare arrivare da noi le forniture per poi spargerle a chi ne ha bisogno, diciamo che è un progetto in cui è impegnata anche la Turchia, per cui andremmo parte a uno scontro anche sul Mediterraneo con i turchi, questo è quello che si chiama piano Mattei, per l'Africa bisogna vedere se effettivamente l'Algeria sarà in grado di fornire tutto questo gas, perché dice il messaggero Meloni intende raccogliere entro il 2024-2025 anche per affrancarsi del tutto dalle forniture russe tra i 50 e i 70 miliardi di metri cubi di metano all'anno, per soddisfare il fabbisogno nazionale e per distribuirli nei vari paesi europei, in primis la Germania che sarebbe molto interessata alle nostre forniture, poi le manderemmo in Austria, in Gueria e in Polonia. Per raggiungere queste cifre il governo italiano vuole potenziare il gasdotto TAP che arriva dall'Azerbaijan, guarda la stabilizzazione della Libia che potrebbe aumentare da 2 a 9 miliardi di metri cubi le proprie esportazioni e poi punta il gas egiziano trasportato via mare e progetta il potenziamento dei rigassificatori in Italia che dovrebbero passare dai 3 attuali a 7, qui ovviamente ci sono tutta una serie di problemi non indifferenti, il primo è l'Algeria che non è esattamente un alleato affidabilissimo, il secondo è il potenziamento del TAP, a parte tutti quelli che si erano posti lì c'è un problema che è l'Azerbaijan, noi vogliamo i russi per andare dagli azeri che come sapete nel Nagorno Karabakh stanno sterminando da un sacco di tempo gli armeni, la popolazione armena che sta lì e combatte fieramente e viene perseguitata, chiede aiuto alle autorità italiane, lo ha fatto anche mandando qui alcuni rappresentanti, il vescovo dell'Arzak che io personalmente ho incontrato, qui va tutta la mia solidarietà, il mio appoggio perché stanno combattendo una battaglia per la loro nazione e qui è curioso perché noi per difendere l'Ucraina ci rivolgiamo agli altri, poi però non si capisce perché il discorso non debba valere anche per l'Armenia da questo punto di vista, visto che l'Armenia ha anche storia diversa rispetto all'Azerbaijan, oltre a essere stata vittima di un genocidio, quindi è tutto molto curioso, abbastanza anche inquietante e poi sull'Egitto ovviamente ci sono anche i genitori di Regeni che protestano e quello era da mettere in conto, quindi la situazione è un po' problematica anche perché quando tu cerchi di conciliare la morale con le esigenze del mercato e dell'energia si fa un po' fatica.